L'artista, il pittore, il cappello, la dagozza e il pennello per realizzare un quadro così o piccolo, grande, ma lo so sempre, pennello e coloro. Quattro ore? Ma forse ancora di più. Ma di quanto? Ma di quanto? Ma di quanto è grande? Quattro ore! Ma voi? Dite, cosa vedete? La frutta. Ma che frutta? Cos'è questa? Per l'olio. Per l'olio. Per l'olio. Per l'olio. 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 E io la l'olio quando la mangio? Quando la mangio la blu? Tutti i giorni, tutte le stagioni. Quando? L'estate. Per l'olio. Perché invece di tre? Scala. Quindi mi ricorda l'estate. Una stagione, giusto? Io. E poi ancora, quando c'è la l'olio, c'è ancora l'olio. Il melograno. Il melograno, buonissimo. Tu lo conosci? Mi ha visto? Dove cresce? Il melograno. E dove cresce? L'olio. 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 Ja, ma quando l'apriamo dentro cosa c'è? L'olio. L'olio. Di che colore? L'olio. 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 E ci ci smeggia? Sì. E poi ancora che vediamo? L'uva. L'uva? L'olio. E l'olio. L'uva cosa si produce verso l'uva? Il vino. E l'uva quando la mangiamo? L'autobre e l'autunno. A settembre e l'autunno. Quindi già abbiamo visto questa giornata. L'estate, l'autunno e ancora cos'è questa da conoscere? Il vino. Questa è? Il vino. Il vino piccolo. 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 E poi si fa una bellata. E anche questo è un frutto. Lo conoscete? Lo conoscete? Anche questo è un frutto autunnale. Ancora un altro. Cos'è? Il vino piccolo. Si mangia cosa? Il fiore? I bisemi. E quando? quando io mangio vedo tanto il girassolto, il girassolto, il girassolto, il girassolto e i fiori sbocciati li vedo in prima. E allora l'artista qui vi ha voluto rappresentare questa? Giugno. Questi fiori quando noi li vediamo con tutti questi bei colori come siamo? Noi siamo allegri e poi siamo felici perché vediamo tutti questi colori e che colori sono? Colori invernali. Colori caldi perché vediamo il rosso. E poi cosa vediamo ancora? Il giallo, l'azzurro e poi ancora vediamo tutti questi fiori, riconoscendo il fiore, la rosa e poi ancora città, i fiori, la scuola, la città, ci sono anche i tuoi primari, sono un po' bello, i figli, i figli. Ma tutte queste cose da frutta e fiori dove sono? L'albero ma anche dove? Sulla terra. Sulla terra. Sulla terra. La terra, di cosa ha bisogno per crescere tutte queste cose? Di che cosa? Il fiore come cresce? C'è il seno, ma come cresce? Cosa ha bisogno? Cosa ha bisogno per crescere? Cosa ha bisogno per crescere? Ok, dell'acqua. E l'acqua qui c'è? Non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua? Sì. C'è l'acqua? Sì. C'è l'acqua? La fontana dove cresce tanta acqua. Ma non solo l'acqua. Qualcuno ha detto che c'è bisogno anche del? Sole. Del sole. E il sole c'è qui? No. No. Cosa ci dà il sole? Il calore. Eh? Il calore. Il calore? Il calore. Un'altra cosa che ci dà il calore è cosa? Che ci riscarla. che ci risarcola. Il calore? Il calore. Il calore. Oltre al sole che cosa? Come nel fuoco. Il fuoco. E qui c'è il fuoco. Sì. No, qui. Dov'è? No. Qui, dove? E dove? In basso a destra, in basso a sinistra? Passo. In basso? In basso? In basso a... In inizio. e poi ancora al centro c'è qualcuno, chi c'è? Gesù, ma io Gesù quando lo vedo, lo vedo così, in chiesa lo vedo così, quindi non è Gesù. Ma è proprio un uomo simile a Gesù, è secondo voi che non sanno aspettare, è un uomo o è una donna? Il quartiere non è bene, è una donna, ha i capelli sul lato, ha appena i segni, vedete, no? Ha un trappeggio, un prezzo sopra, una maschera, no, è una borsa, è una borsa. E poi che cos'hai? Una chiave. Che è una chiave? Quindi tu hai detto Dio, tu hai detto Gesù veramente, però? Ma io ho detto che è una donna. Ero. 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 Ah, la chiave. Ero. 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 wün. Ero. Dio. Ero. 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 Cosa fa la madre? Ero. 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 Gesù ha creato un mondo. In questo momento invece viene rappresentata la donna come simbolo dell'umanità. C'è con lei che porta avanti l'umanità. Quindi è la chiave. La chiave del mondo. Il mondo è importante dove ci sia che cosa? La frutta, le cose da mangiare, i colori. I colori cosa? Come ci vengono? I colori dei fiori? Felici. Quindi è importante che nel mondo ci siano tutte queste cose che siamo soprattutto felici. E che ci sia sempre questa condività. Che ci sia l'acqua, che ci sia il fuoco. Ma un'altra cosa abbiamo bisogno. Del? Calore. Del? Calore. Del tribo. Della? Della l'aria. Della l'aria. Della l'aria. Giusto? Per respirare. Se non c'è questa l'aria. E allora l'aria l'artista non la vuole rappresentare qui. Che cosa è la casetta in alto? Vedete qualcosa? Cosa? Angeli. Eh? Anni. Angeli. Angeli. Ma non so, non c'è qualcosa altro. Non c'è io. E com'è fermo? Un'altra volanza. Un'altra volanza. Quindi i colori dovrebbero rappresentare l'aria. Ma ancora? C'è ancora qualcosa altro. Che sono? Nessere. E chi sono? Uomini o donne? Donne. Donne. E cosa stanno facendo, sta? Stanno facendo. Stanno facendo. Stanno facendo la madre terra affinché tutto questo sia sempre presente. Giusto? Quanto quello che ci dà la madre terra. E soprattutto vuole rappresentare anche due persone. Come le vedete voi? Sono diversi o uguali? Sì. Sono diversi. Perché? L'artista vuole dire che nel mondo esistono anche persone veramente scure. Quindi ci siamo sia chiari che scure. Che persone con belle scure. Ma che vogliono la stessa cosa. Vogliono fortemente che il mondo continui sempre con questa, con questa, con questa acqua. Con tutte le risorse. Quindi è importante per tutti. E soprattutto l'amore e la felicità. Per tutti. Sì. Sì. Ma quel bambino pieno. Come bambino? Sì, mi stanno facendo la scuola deliziosa. Vedete? Allora, sto bravo, sto artista. Sì, l'ho visto. Avete visto quante cose che ho potuto dire con questo quadro? Ma mio zio però, un po' non l'abbiamo visto. Ma dove? Ma dove? Andiamo a cercare? Sì. 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 Sì.